A passo spedito verso una nuova realtà, quella di un'emittente televisiva, con i suoi studi, la regia, la redazione giornalistica. Un'esperienza fuori dal comune, quella che oggi hanno potuto vivere gli alunni di due classi, la quinta A e la quinta B della scuola primaria Manzoni di Treviso. Accompagnati dalle insegnanti, i ragazzi hanno potuto toccare con mano una realtà produttiva nuova, il contesto nel quale sono raccolte, lavorate e gestite le notizie, la realtà viene osservata, raccontata e diffusa. La visita arriva a conclusione di un progetto iniziato in classe con le insegnanti di italiano su come si scrive un articolo, dalla scelta degli argomenti alla produzione di un giornale cartaceo. Un giornalista poi è entrato nelle loro classi per raccontare il suo lavoro e infine la visita in loco. Gli studi, le regie, e lo studio virtuale, le sale di montaggio. Perché l'apprendimento si nutre di ogni tipo di esperienza, come quella che ha portato oggi i ragazzi nel cuore di una televisione, dentro alle notizie, nel lavoro che quotidianamente Antenna 3 fa con impegno e passione.